Alfredo Pietrantonio potrebbe essere il caso di dire chi si rivede dopo tanti anni, era il Teramo in Lega Pro, adesso è un Teramo che è in piena ascesa, che vuole tornare dove gli compete in Serie D a affrontare un campionato importante e che tu conosci molto bene. Sì, spero sia all'inizio, l'inizio e non la fine di un ciclo, nel senso c'è stata questa vittoria di questi campionati da parte di questa squadra, spero sia l'inizio perché si può andare ancora avanti, la piazza merita tanto, la società è ambiziosa e quindi puntiamo a fare bene e per noi è motivo di orgoglio rappresentare una città così importante ed è giusto che la portiamo il più in alto possibile. Rispetto al Pietrantonio che abbiamo conosciuto sette anni fa, ti ricordavamo soprattutto con un esterno mancino dato di un buon piede e un buon tiro, negli anni poi ti sei anche abbassato come raggio d'azione, ci vuoi spiegare un pochino le alternative che potessi andare a ricoprire? Sì dai, in questi anni ho fatto, spesso adesso si usa giocare con una difesa a tre, quindi ho fatto sia il terzo di difesa, sia il quinto, sia il quarto di centrocampo, sia il terzino, ricoperto un po' quei ruoli là, ho lavorato un sacco sulla fase difensiva, nel migliorarmi insomma diciamo sotto tutti gli aspetti, mi piace sia attaccare che difendere, essere utile alla squadra in entrambi le fasi. Come si è evoluto questo girone nel corso degli anni e che raggruppamento ti aspetti in prossimo? È stato un girone che è cresciuto tanto, è cresciuto tanto perché tante piazze blasonate sono entrate a far parte di questo girone, alcune sono salite, l'anno scorso è stato un girone molto difficile, così come penso che lo sarà quest'anno, ci sono tante squadre che puntano a far bene, a vincere, ci sono piazze importanti, però per noi deve essere da virgolette un vantaggio, andare negli stadi, trovare un sacco di gente, deve essere solamente uno stimolo e nessun motivo di ansia. Cosa ricordi soprattutto di te, eravamo diversi anni fa, come la ritrovi oggi e cosa ti aspetti da questa tua stagione? La ritrovo con molto entusiasmo perché comunque vengono da un ottimo periodo e dobbiamo secondo me cavalcare l'onda, a prescindere dalla categoria, a prescindere dai giocatori, dallo staff, dalla società, bisogna secondo me tutti insieme cavalcare l'entusiasmo che porta a questa città e cercare di sfruttare al nostro favore. Magari con gli assist anche di Pietro Antonio. Va bene, va benissimo, magari anche qualche gol. Bocca a lungo.